Previsioni meteo per sabato 29 novembre, al nord ancora fenomeni sparsi su ponente Ligure, Alpi occidentali e Friuli, tempo asciutto ma con molte nubi in Valpadana fino a cieli molto nuvolosi o coperti. Al centro il tempo torna stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza poco parzialmente nuvolosi su Tirreniche, Sardegna e Abruzzo. Al sud ritorno a tempo stabile su tutte le regioni con ampi spazi soleggiati, specie su Sicilia, Basso Terreno, Molise ed Alta Puglia. Venti deboli orientali, moderati tesi da sud-est. Mari mossi. Temperature in sensibile aumento.